Ciao ragazze, ciao ragazzi, vado a quante cose ho comprato con i saldi e non con i saldi Innanzitutto benvenuti in questo nuovo video, lasciatevi un bel like e un bel commentino e venite a seguirmi anche su Instagram e su TikTok, ci sono i saldi anche su Carita Shop infatti abbiamo la promo dell'estate, quindi venite a vedere su Carita Shop ci sono tantissimi saldi, quindi approfittate comunque io sono stata in diversi negozi, ma ho preso anche cose che non sono scontate perché non so se capita anche a voi, io spesso quando vado nei negozi compro anche cose che non stanno scontate e anzi il mio occhio cade sempre sulle cose che non stanno scontate e dico, oh mio dio, ma come è possibile? Comunque, allora, da Tezenis, sono stata da Tezenis, da Primark, da Zala, vi faccio vedere un po' allora, da Tezenis ho preso questo completo che è troppo troppo carino porta la maglia, che è fatta così col nodo è bellissima, veramente, veramente di questa fantasia, troppo troppo bella con la gonna, la gonna praticamente c'è di diversi modelli ho preso questa che si... ti è caduto? ah, ok, non si direbbe, ok la gonna che si annoda in vita, molto molto bella sempre di questa fantasia ed è lunga e poi ho preso anche il costume questa, dico, sono tutte cose che io non ho provato perché non so voi, ma io compro le cose senza provarle non so voi, ma io compro le cose senza provarle poi me le provo a casa, vabbè comunque mi sono presa anche il costume abbinato troppo 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 carino, mi piaceva un sacco questo veniva, se non mi sbaglio, 20 il costume completo e sotto porta questo qua vedete, è un po' elastico e molto molto carino poi ho preso quest'altro costume che non era in saldo ed è molto molto bello di questa... di questa... di questo tessuto tutto brillantinato bellissimo cambiare un po' per non fare sempre rosa bellissimo sempre a tanga adoro poi invece questi orecchini questi qua li ho presi da Stradivarius penso sia l'unica cosa che ho preso da Stradivarius perché non ho trovato granché ho preso questi orecchini d'argento non solo d'argento costavano 9,90 invece li ho pagati 3,99 unica cosa scontata secondo me poi da Zara andiamo a vedere un po' da Zara cosa ho preso allora ho preso anche per Danel allora per me ho preso non ho trovato tantissime cose vi anticipo già ho preso questa camicetta che è molto molto bella di questo rosa molto molto carino fatta con il nudo questa qua era scontata no neanche a dirlo 30 euro però bella con la manica lunga sapete per le sere d'estate magari con una gunna di jeans bella con il nudo in vita guardate che bella 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 molto molto bella ok poi per Danel vi faccio vedere un po' mischiate le cose ho trovato questa salopetta e la cosa bella è che ho anche una salopetta di jeans dello stesso colore e vi voglio fare una foto assieme a lui non vedo l'ora poi ho preso anche i calzini questi penso se li ha presi Dario sì sono di Dario ok poi le mutandine di Batman di cui una l'ha voluta già indossare questa magliettina costritto cocco guardate che carina troppo troppo bella è il cocco anche dietro adoro e poi ho preso questo vestitino aspetta una salopettandina anche i calzini ok questo vestitino che è troppo troppo carino anche questo devo provarlo praticamente è fatto tipo tubino che c'ha è super elasticizzato e c'ha tutte le vedete tutte le non so come si chiamano le pieghette comunque molto molto carino questo qua era scontato sì l'ho pagato al 30% l'ho pagato 15 euro ok ok poi da Primark raga da Primark un casino ma da Primark non si capisce mai nulla non so in altre parti d'Italia qua c'è anche una bottiglina d'acqua ma da non mi capisce mai nulla alla fine cosa ho preso da Primark ho preso questo top di cui volevo anche il pantalone e alla fine ho trovato solo il top scollato vedete carino che sotto portava tipo un bermuda per diciamo per allenarsi come completino vedete scollato molto molto bello ma non sono stata capace di trovarlo cioè in tutti i colori ma quindi lo utilizzerò come crop top sopra altre cose e poi sempre da Primark ho preso ho preso ho preso questo vestitino questo molto carino fresco tipo per andare al mare così molto molto carino sempre fucsia adoro belino questo l'ho pagato l'ho pagato l'ho pagato 6 euro raga al 50% cioè niente proprio e poi Dario si è preso questa canottiera per lui molto molto bella le sue fantasie sapete mega galassia poi una cosa molto utile anzi questa cosa utile ve la faccio vedere alla fine è un piccolo segreto dovete vedere tutto il video da Zara raga no da Piazza Italia da Zara devo sapere Piazza Italia che anche ha delle cose carine a volte a volte ho preso questo completo molto molto carino che mi piace un sacco tipo per la sera con la gonna con tutte le paettine fucsia adoro con questo corpettino molto molto carino anche questo devo provarlo anche perché l'ho preso LXL perché SM mi sembrava striminzito quindi me lo devo provare e spero che mi vada cioè mi piacerebbe che mi andasse proprio a tipo vestitino cioè senza lasciare la pancia scoperta mi piacerebbe di più ora vediamo come mi va e poi ho preso sempre qui ho preso questo vestito molto molto bello lungo perché io non ho tantissimi vestiti lunghi e ho trovato questo tra l'altro pagato pochissimo 25 euro è un bel vestito lungo molto molto bello c'ha le coppe incorporate quindi va senza reggisino con la bretellina è lungo 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 però sotto c'ha la gonna vedete riuscite a vedere c'ha la gonna quindi in trasparenza e poi è tutto trasparente bello e c'è anche questo in vita per fare un fiocchetto bello mi è piaciuto molto mi ha colpito adesso me lo devo provare anche questo e questo è quello che ho preso mi raccomando venite su IG a vedere i rill e le foto così vedete anche indossati lasciate un pollice in su al video se vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti quali altri video vorreste vedere buona giornata vaga mi sono ricordata solo ora mentre evitavo il video che ho dimenticato di farvi vedere la bellissima cosa e quindi ho detto non lo vado ad attaccare questo pezzettino perché se no le ragazze rimangono col dubbio la bellissima cosa l'ho trovata qua per tutti voi che magari non vi mettete vestiti attillati e magari perché vi dicono ah ma sei incinta ah ma c'è una pancia gonfia e vi create questo problema fregateve innanzitutto mangiate fregateve e potete prendere queste pancerine questa io l'ho presa da intimissimi ma ce l'hanno un po' tutti i brand diciamo di intimo ed è molto molto contenitiva io ad esempio l'ho presa una seconda quindi mi va comunque e costa un pochino costa 19,90 però comunque va utilizzata soltanto in quelle occasioni in cui volete qualcosa di molto contenitivo vedete com'è questa è fatta a tanga ma c'era anche a slip e sono verrà già l'ho provata e sotto al vestito quello là fucsia mi va benissimo perché mi fa una pancia super super piatta ragazze quindi veramente veramente top e questa era la sorpresina poi provatela e fatemi sapere se non vi ho svelato un super super segreto dunque raga mi va tutto tutto bene ho provato tutto tranne questo che tra l'altro è bellissimo ma non mi piace proprio come mi sta né il pezzo di sopra né il pezzo di sotto non mi piace proprio quindi penso che lo andrò a cambiare questo che avevo preso da Piazza Italia mentre il vestito lungo è molto molto bello c'era anche in turchese quindi se vi capita prendetelo questo 14,99 il pezzo di sopra e 14,99 cioè questo di sotto e 14,99 quello di sopra non capisco perché non mi piace proprio come mi sta addosso e non fa un bel punto vita poi non so non è non so comunque non mi piace quindi cioè vederlo così sì è bello però indossato dico che non mi piace quindi niente lo vado a cambiare vabbè il resto mi va bene tutto quindi sono contentissima venite a vedere su IG vi faccio qualche qualche rillo o qualche foto mentre lì indosso un bacio ciao video come vecchi tempi con le mani ciao ciao ciao